Schizzano le esportazioni di vino italiano grazie anche alle vendite di vino pugliese. Il dato emerge da un'analisi della Coldiretti regionale. Damiana Sgaramella. Le esportazioni made in Italy registrano un rimbalzo del 19% in valore nel 2021 grazie alla riapertura della ristorazione in tutto il mondo che spinge al record storico. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti Puglia relativa ai primi mesi dell'anno in occasione del primo vino Italy che si svolge con la vendemmia in corso con l'esposizione delle uve di Negramaro e Nero di Troia, tra i grappoli più noti del bel paese. Secondo le stime della Coldiretti regionale, a spingere il record del vino all'estero dopo l'anno del Covid sono soprattutto gli Stati Uniti che fanno registrare l'aumento, confermandosi così come il primo mercato di sbocco. Nonostante le vendite in Cina siano incrementate del 67%, a trainare le bottiglie italiane oltre il confine nel 2021 sono anche i consumatori europei. In Francia le etichette made in Italy fanno registrare un più 17%, in Russia più 39%, mentre la Germania cresce del più 5% ma su valori che ne fanno il primo mercato del vino tricolore nel vecchio continente. La Gran Bretagna invece risulta il paese dove le vendite di bottiglie italiane sono ferme a causa della difficoltà legate alla Brexit. Le maggiori criticità per chi esporta verso il Regno Unito, precisa Coldiretti, interessano le procedure doganali e riguardano anche l'aumento dei costi di trasporto dovuti a ritardi e maggiori controlli. Sulla base delle elaborazioni Coldiretti su dati SMEA, la ripresa complessiva delle esportazioni si unisce alla crescita dei consumi interni con un aumento record degli acquisti domestici di vini e spumanti del 21,3% nel primo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'avanzare della campagna vaccinale anti-Covid, conclude la Coldiretti regionale, sta favorendo il ritorno alla vita di comunità e la riapertura dei ristoranti che hanno ripreso slancio dopo un 2020 di sofferenza.